La prima di casa, la prima di casa, la prima di casa, il secondo me, il quale giornale ha avuto più una vicenda. Chi è stato mandato il 5 Stelle e la presidenza di tutto, di lavorare con questo e quando la prima di casa è stata la conferenza di Gaglione di Sposti, che è nato in un'attività, da qui è iniziato a partire tutto, è partito tutto il lavoro. Per compitire così, capisco, è partito tutto il lavoro. Oggi fare la proposta di Gaglione di Gaglione di Sposti, significa che quella conferenza dove, alla colla detenza di Gaglione di Sposti, quella conferenza che è in discussione, innanzitutto dal partito di maggior parte del Gaglione di Sposti, ha messo in discussione quell'atto politico che è in grave, in grave responsabilità, quindi se dovessimo decidere, a mio avviso, se dovessimo decidere, innanzitutto questo regolamento, così come è stato proposto, così come è stato stimolato, così come il Partito Democratico si è dispostato, prima del Presidente, di trovare soluzioni per dare in moto a quello che erano le sucezioni di garattere, di garattere generale, e quindi la visione di conferenza di Gaglione di Sposti, che è proposta un emendamento allo stesso, alla stessa immostrazione generale, e fatto questo non viene, non viene comodo, lo so, che è stato, che si è creato, a questo punto di vista si chiama una conclusione di ragionamento, è che è tutto un ragionamento di politico, che non ha nulla a che vedere ogni regolamento, non ha nulla a che vedere ogni esiste di lavoro che abbiamo dovuto di fronte, che abbiamo dovuto non solo al Partito Democratico, ma a tutti quei consiglieri comunali, a tutte quelle persone che si sono rimpate a quello che è il mandato che ci hanno ritrovato a solo sindaco e educato, al programma elettorale del sindaco e educato. Noi abbiamo tanti stagi precisi, e uno a me il Partito Democratico sta al progetto il suo ruolo in primo modo di controllo della maggioranza, affinché il lavoro che è stato determinato in parte della campagna elettorale, che è quello del risparmio, che è quello del contesto, che è quello dell'esplicienza, la politica e l'administrativa, quella dell'esplicienza, della macchina comunale, abbiamo constatato che tutto questo noi non riusciamo a farce carica. E punto a me il Partito Democratico, punto su punto, questione su questione, quindi non solo i dati sui vincetti, voglio ritornare al Consiglio che abbiamo fatto mai niente, il Partito Democratico, il Presidente del Consiglio, di organizzare il Consiglio Comunale sull'Unione Europea. Abbiamo, quindi, giusto che dare una indicazione di come il Partito Democratico libera dovessi muovere. Abbiamo fatto interrogazioni precise, articolazioni, che non sui vincendo, minimo, come dire, critiche, stimolare, voglio riuscire, voglio riuscire, voglio riuscire, voglio riuscire, voglio riuscire che il Davide, il un governo è che i ento che abbiamo presentato un test del programma, ilustrante, del test della campagna, il avete sull'emissione di garanzia, oggi stiamo consumando un gioco, tutto questo, prendiamo atto che c'è una onda che con il regolamento non ha nulla a che vedere, stiamo parlando di gustavità, stiamo parlando di tutta una cosa, stiamo parlando di politica in generale, stiamo parlando di alleanze più centrali, stiamo parlando di quello che dovrà essere i nostri appuntamenti elettorali, la città migratoria, ma dei quattro generati e quattro generati del Paese. Quindi è questo quello che abbiamo detto da noi e non abbiamo altro, non abbiamo altro. E io invito i consiglieri, molto particolare di maggioranza, a tenere presente le cose che stiamo facendo qui, quest'oggi, che non stiamo consumando semplicemente un atto amministrativo, ma stiamo invece organizzandoci per creare alleanze più importanti. Grazie.